Una frode fiscale milionaria messa in atto mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture false ad opera di sei società del settore dell'edilizia con sede in Toscana, Campania e Basilicata. Questo secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno nell'Aretino. Gli imprenditori coinvolti nell'indagine, secondo gli inquirenti, si sarebbero avvalsi di società cartiere prive di una reale struttura operativa e riferibili a soggetti prestanome compiacenti che hanno emesso fatture false per consulenze e noleggioattrezzature. Un meccanismo che ha consentito alle imprese destinatarie dei documenti fiscali non solo di abbattere i redditi da sottoporre a tassazione, ma anche di ridurre il carico fiscale per l'IVA indebitamente detratta. Si parla di circa 4,2 milioni di euro di imposte sui redditi e un milione e mezzo di IVA. Grazie a questo sistema illecito, gli imprenditori, secondo le indagini, hanno potuto competere sul mercato praticando prezzi sensibilmente inferiori a quelli medi, creando dunque effetti distorsivi. In sette sono stati denunciati per reati fiscali.